ciao sono vera gheno sociolinguista traduttrice dall'ungherese social media manager madre tante cose insieme e ringrazio innanzitutto la biblioteca lazzerini per avermi invitata al ciclo di incontri con l'autore dei quali questo è una sorta di aperitivo spero di poter fare l'incontro dal vivo con voi con tutti voi il prima possibile ho scritto diversi libri nell'ultimo anno nel 2019 ma in particolare nel dicembre 2019 è uscito un testo al quale tengo moltissimo questo qua si chiama femminili singolari il femminismo è nelle parole e la casa editrice è una casa editrice fiorentina molto dinamica molto coraggiosa che si chiama fq e ha un bellissimo catalogo che vi consiglio il libro parla di una questione piuttosto controversa e particolare ossia la diatriba attorno alla questione dei femminili professionali quelli come ministra assessora ingegnera questora e così via so che anche fra di voi mentre io stavo elencando queste forme qualcuno ha sentito un brivido lungo la schiena e sono sicura che molti di voi hanno la tentazione di interrompere la visione di questo video dicendo le solite cose allora un po avete ragione perché è un argomento molto dibattuto soprattutto sui social network però proprio perché è molto dibattuto sui social network ho sentito il bisogno di fare un'analisi proprio della comunicazione inerente a questo argomento ma quella specificamente avvenuta e che avviene sui social mi spiego meglio io in una vita precedente ho fatto la gestrice del profilo twitter dell'accademia della crusca ente presso il quale ho lavorato per vent'anni della mia vita prima di andare a lavorare per zanichelli che è il mio con cui ho una collaborazione fissa attualmente e negli anni in cui ho gestito il profilo twitter della crusca dal 2012 al 2019 la cosa che mi ha fatto impressione di più è stata che ogni volta che ho twittato qualcosa inerente a questo argomento ho scatenato non delle discussioni normali insomma di tono accettabile ma delle vere e proprie lapidazioni pubbliche delle degli scontri online di una veemenza anche verbale veramente inaudita e allora a un certo punto forse anche un po presa dalla frustrazione dal fastidio dal fatto che non è nelle mie corde blastare ossia affrontare in maniera altrettanto violenta e veemente quelli dissenzienti ma in maniera brutale ho scelto un'altra via ho scelto di raccogliere tutte le testimonianze di questi messaggi così pieni di odio e anche pieni di false convinzioni e di metterne lì in attesa di un'idea su come utilizzarli e poi a un certo punto proprio grazie a FQ questa idea è arrivata ed è arrivata sotto forma di libro in cui sì io tratto la questione dei femminili professionali all'inizio infatti spiego faccio un'introduzione storica nella quale spiego che in realtà la questione non è nuova e risale addirittura agli anni 80 con le raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana di Alma Sabatini dopodiché c'è una seconda parte in cui spiego come fare i femminili ma se uno non ha voglia di studiarla basti sapere che lo Zingarelli registra più di 700 femminili professionali dall'edizione del 1994 quindi di nuovo non è una cosa recente tutta la parte terza o quarta del libro insomma comunque la seconda parte il secondo blocco del libro si occupa invece di sfatare pezzo per pezzo tutte le false convinzioni tutte le false proteste le false eccezioni che vengono sollevate quando si parla della questione il tipo allora io da domani dico autisto oppure presidenta non si può sentire oppure queste forme non esistono state tradendo la lingua italiana e così via quindi femminili singolari è una passeggiata fra le castronerie che vengono dette in opposizione alla questione dei femminili professionali e viene fornita praticamente per ogni protesta una risposta pacata basata su fatti linguistici e scientificamente per quanto possibile ineccepibile è un ottimo manuale per evitare di arrabbiarsi online sulla questione e credo che sia un argomento che possiamo approfondire che secondo me può essere trattato in maniera pacifica non c'è bisogno di scannarsi a vicenda il punto focale del mio libro è che si può discutere anche di questo sempre nel rispetto della posizione di chi la pensa diversamente forse questo lo dobbiamo imparare a fare mi saluto tutti spero che le cose migliorino sensibilmente nel prossimo futuro e che questo ci sia ci dia modo di incontrarci anche di persona sarò ben felice di rispondere a tutte le vostre domande o perplessità ciao